Gentili telespettatori, buona giornata. I reparti investigativi scientifici dei carabinieri, il RIS, hanno analizzato traiettorie, sono dei professionisti invidiati in tutto il mondo, i nostri reparti speciali dei carabinieri, non solo quelli del RIS ma anche altri reparti dei carabinieri della Polizia di Stato e della di Finanza, poi arrivano i pozzolo di turno e pensano di farsi su, di incartare su il RIS dei carabinieri. Diciamo che se pensi di fregare i carabinieri non sei molto, non molto, non molto direi, però già uno che va a una festa molto allegro con moglie e figli ed estrae una pistola e spara, mi capirete bene che è una persona non molto, anzi non proprio, vabbè insomma sono valutazioni mie personali, la vita poi ti porta il conto prima o poi, certo questo pozzolo è riuscito ad arrivare ai vertici della politica, politica onorevole in Parlamento, ti è andata bene fino adesso, adesso arriva il conto, non sempre arriva il conto, ci sono anche persone così che vanno avanti altri vent'anni in Parlamento, però la versione di Pozzolo non regge, dicono gli investigatori, inverosimile un colpo accidentale e le accuse potrebbero aggravarsi proprio per anche l'atteggiamento che ha questo, spero ancora per poco, onorevole. viene concesso il porto d'armi a questo pozzolo perché aveva timore di subire un attentato dopo l'attacco a Madrid al fondatore di Vox e l'emersione di una pista iraniana, per questo che il deputato dal 12 dicembre giorno della concessione del porto d'armi per difesa personale si muoveva sempre con quest'arma. Attenzione, dal 12 dicembre il 31 ha sparato a un uomo, insomma non è che aveva il porto d'armi per portarsela da due anni, da un anno, dal 12 dicembre cari amici, dal 12 dicembre ed è andata bene, adesso gli hanno ritirato tutto per fortuna, un pericolo per chiunque, un personaggio così è un pericolo per chiunque gli è intorno. la legge gli consentiva di andare in giro con quest'arma qua. Beh certo, minuscolo paese di 97 abitanti sperduto sulle montagne, molti si chiedono a un veglione con bambini, agenti della scorta, compagni di partito, che paura aveva. Ma questo non è il punto, molti giornali continuano a dire questa cosa, ma che paura aveva. Se tu hai il porto d'armi, ti hanno dato il permesso di portarti la pistola e sei una persona intelligente, la metti qua e non la tiri fuori mai, non dici neanche di averla, zitto, la estrai solo per pericolo imminente per la tua vita. Non è che vai in giro tutto allegro, io sono amico di tutti, con la pistola in mano, ma stai scherzando? Incredibile. Quindi il problema non è perché andassi in giro a una festa sperduta in un paese, perché se tu sei in pericolo sei in pericolo sempre. Se c'è il pericolo di un attentato, chi ti cerca ti viene a prendere anche in cima all'Everest, quindi non continuiamo con sta fesseria, capodanno, cosa cacchio c'entra? Anche del mastro, se sapevo, se avessi saputo che uno viene alla festa armato, ma se quello è in pericolo e gli è stata data la possibilità di portarsi l'arma sempre con sé, devi portarla sempre con te. Quello è normale, il punto non è quello, il punto è perché la estrai e quando sei tutto molto allegro. Ma dico io, ma la moglie lì, quando ha visto il consorte molto allegro con la pistola in mano, con dei figli, ma non ha detto niente? Non so, io vedo comunque la vita in un certo modo e penso che tutti ragionino come me, ma non credo che tutti ragionino come me. Il mondo è bello o brutto perché è vario. Va bene. I carabinieri guidati dal procuratore capo di Biella del capo ufficio istruzioni Teresa Angela Camelio hanno interrogato una ventina di testimoni, quasi tutti presenti alla festa privata organizzata dai locali della Proloco, ad eccezione della sindaca Francesca del Mastro e del fratello Andrea, sottosegretario della giustizia, che saranno sentiti prossimamente così come gli agenti della scorta. Tutte le testimonianze raccolte, compresa quella del 31enne colpito, concordano su un'identica versione. L'arma era impugnata dal cowboy di Fratelli d'Italia, dallo sparatore Pozzolo. Nessun altro può aver sparato, l'arma ce l'aveva lui. Lo dicono 20 testimoni. Un gomblotto? Che cos'è un gomblotto contro il deputato? Un gomblotto della sinistra? 20 testimoni. Il 38enne al suo primo mandato in Parlamento è indagato per lesioni colpose, esplosioni pericolose, incauta custodia d'arma. Ma lui continua a smentire, pensate un po' il personaggio, pensate il personaggio. Lui continua categoricamente a smentire di essere stato lui. Lui dice che gli è caduta inavvertitamente dalla dasca e chi ha raccolto l'arma, cioè il povero elettricista, si sarebbe sparato da solo. Versione che è inverosimile da parte degli investigatori e per due motivi. Il revolver richiede l'armatura del cane prima delle esplosioni nel colpo, premendo il grilletto e il proiettile che ha colpito alla gamba sinistra, sempre sparato parallelo al pavimento, ad un'altezza di almeno 70 centimetri o un metro, compatibile con una persona seduta e non con un'arma a terra o una traiettoria di rimbalzo. Il proiettile ha ferito il 31enne in modo serio e, come conferma il suo legale Marco Romanello, il decorso per la ripresa fisica andrà certamente oltre i dieci giorni della prognosi. Dopo l'intervento dell'estrazione dell'ogiva, lo stesso elettricista ieri ha smentito categoricamente di aver mai preso in mano o maneggiato la pistola. Non sapevo neppure che ci fosse un'arma come può dire che mi sono sparato da solo. Denuncialo, caro elettricista, non ti fare prendere in giro. Quasi ti ammazzava. Se non ti prendeva nella gamba, leggermente più su, eri morto. O tu o qualcun altro. Quindi denuncia questo personaggio che dice che ti sei sparato da solo. Mamma mia. Ma che cosa dobbiamo ancora sentire in questo anno che ci aspetta? Che cosa dobbiamo ancora sentire dalla politica? La Procura si attende alla querela della vittima che potrebbe essere presentata all'inizio della prossima settimana. Il reato di lesioni colpose è procedibile solo su un'iniziativa di parte lesa, ma se la prognosi vi dovesse aggravarsi oltre i 40 giorni diventerebbe procedibile d'ufficio. Da valutare poi la presenza di minori e infanti alla serata potrebbe aggravare le accuse nei confronti dello sparatore di Fratelli d'Italia. Arrivederci a tutti e grazie.